Pescara, retrocesso giustamente, ci auguriamo che torni in Serie A il più tardi possibile per la prestazione No, 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 tanto sei arrivato adesso No, no, me ne posso andare Pescara No, no, sei pulito di Pescara, speriamo che torni il più tardi possibile Non sei riparato, non sei spurtivo Pescara, meritatamente ultimo, 22 punti, diavolina, 15, il donna, soprapporti Speriamo che torni in Serie A il più tardi possibile così impara a sdraiarsi Siena, anche in Siena vai in Serie B, anche se gli punti la fatti 36 perché gli è stati tolti Chissà perché la penalizzazione è in Siena Pensa a te, Pensa a te Siena e B, meritatamente anche in Siena, Palermo ci spiace La panora per Zamparini Laoretta, mi dispiace Pensa a te Genoa 38 punti, Torino 39, Atalanta 40, Sandorio 42 Sandorio che ieri sera, Sandorio che ha fatto se non sbaglio 6 punti contro Ma non importa, sono gli influenti, non ti preoccupare Luglia 44 come i gatti, Chievo 45, Cagliari in testa la side B, è una cavolata ma la diciamo lo stesso 47 side B dove per poco non scivolano i nostri amici No, sono per dire Parma 49, complimenti adonatori, eccoli qua Eccoli qua, eccoli qua Abbiamo la rappresentazione anche dei nostri cuginetti Eccolo qua La tartaruga Inter La tartaruga Inter, è rimasta bloccata l'Inter Possiamo stringere un po' l'immagine con un... Per l'Inter non serve neanche la scala Non serve la scala, non serve la scala Ecco, se riusciamo a stringere Inter, Laura, Laura, se vieni qua, teniamo la tartarugina mi fai un favore Perché rimane come simbolino dell'Inter Pensa che per due anni per te non serviva la scala di parlare È sempre un rettile, passiamo da Piscione alla tartarugina Catania 56 e qua entriamo nella zona caldissima perché qua sono le prime... Le tartarughe sono rettili, no? Certo, le tartarughe sono rettili Non lo sono affibi, non ti sbagliare No, sono mammife Le tartarughe sono rettili Sono rettili Non c'è Siamo nelle prime otto Le prime otto hanno il vantaggio e la fortuna di giocare a Coppa Italia senza preliminari Quindi entrano in scena in autunno L'Inter non ne fa parte, quindi giocherà i preliminari di agosto Catania 56, Lazio 61, Roma 62 Vedremo quale di queste farà compagnia in Europa League A chi farà compagnia in Europa League? Ai nostri amici in Udinese, che oggi sono venuti qua a festeggiare con noi a Milano Un abbraccio, un bacio E alla Fiorentina! E alla Fiorentina! E alla Fiorentina di Bonavoli, si rimane qua in Corata Al terzo e primo posto Il MUM! Il MUM! Il MUM! Il MUM! Il MUM! E restano cittadessa! Buona cittadessa! Buon Napoli 72 Senza vergogna Lina l'oregia, lina l'oregia!